E anche oggi giornata piena, con istruzioni in ordine chiuso. Montaggio e smontaggio del moschetto in quimi distinguetti per capacità e memoria. Ah, indi rancio speciale con ricatone al sugo veramente mondiale. Eh, e marmellata di figli che durante la notte mi procurarono il solito disturbo con un grandissimo prurito che non mi fece chiudere un occhio e perciò ne approfittai per pensarti moltissimo. Ah, uomo di penna questo tuo fidanzato, animo poetico. Raramente lo è essere stupidità più stupida di queste, te amo leggere. Ah, un momento. Baci appassionati sulla bocca. Sante cretina, scriverai a questo scostumato che certe sconcezze le scrivesse a sua sorella e se mi viene a mano un altro simile sotto il fuggio le sue prossime lettere finiranno direttamente a me. No, Vincenzo. Fa uso il loro. Mano di ricotta.